Bene, vi do il benvenuto a tutti a questo dibattito sull'impatto della crisi pandemica che stiamo vivendo al momento sul mondo del lavoro e si tratta di un dibattito con una diretta scadenza politica che è quella dello sciopero generale della logistica della DL Cobas e di Sicobas di venerdì prossimo. Interverranno qui con noi Ruggero Sorci della DL Cobas e Adam Mujabre, delegato della DL Bartolini, ci sarà Francesca Vionello dell'Università di Padova e Jamie Woodcock del collettivo di inchieste Know's From Below che ci ha mandato un video da Londra. Io farò un breve intervento introduttivo anche per porre un po' il problema del collegamento delle lotte al punto di produzione con le lotte al punto di riproduzione, quindi le lotte nei quartieri, nei territori, che è di rinnovata attualità anche alla luce dell'importanza del movimento ambientalista anticapitalista che si è data a partire dagli ultimi due anni. Sappiamo che molti dei giovani che attraversano i nostri spazi si sono anche avvicinati tramite le lotte ambientaliste per cui Fridays for Future e adesso Rise Up for Climate Justice. E quello che noi ci diciamo dall'inizio della pandemia insomma è che la crisi sanitaria non può essere compresa separatamente dal modo di produzione in cui viviamo, dal capitalismo. Ciò non riguarda soltanto i sistemi sanitari inadeguati perché lo stesso salto di specie del virus dagli animali agli esseri umani è legato al sistematico degrado ambientale in corso, in questo caso in particolare la deforestazione che avvicina gli umani a nuove fonti virali. Questo noi lo sappiamo è frutto avvelenato dell'imperativo capitalista all'appropriazione infinita di risorse, tra virgolette risorse naturali, per proteggere i margini di profitto che poi muovono l'economia. Nel corso della pandemia abbiamo visto che il lavoro ha rappresentato uno dei più alti rischi per i lavoratori di contrarre il Covid e quindi insomma per noi tutti. Insomma è da poco la notizia che Amazon, il cui CEO, il principale proprietario Jeff Bezos, tra gli uomini più ricchi del mondo, si è arricchito enormemente durante la pandemia quando 19.000, oltre 19.000 suoi dipendenti hanno contratto il virus e quindi poi diffondendolo anche tra i vari contatti familiari, congiunti, conviventi. Da noi in provincia di Treviso c'è stato un maxifocolaio all'Aia di Vazzola con oltre 300 infetti su cui noi abbiamo anche fatto una piccola inchiesta che comunque ha girato molto, in cui siamo andati a dimostrare in cui sono proprio le condizioni di precarietà lavorativa che hanno favorito l'emergere di questo gigantesco focolaio. Nell'ultima mandata abbiamo visto un'ondata di vertenze lavorative per la difesa della salute, nonché forme di resistenza più carsiche, come un aumento dell'assenteismo in quei luoghi di lavoro soprattutto che non prendevano le misure necessarie, nemmeno le minime. Abbiamo però dall'altro lato, e io qui ci tengo a far emergere anche le contraddizioni, abbiamo visto le manifestazioni di massa per lo più coordinate dalla destra, infarcite dalle teorie della cospirazione del complotto più creative che insomma partono dalla CIA per passare dagli ebrei arrivando agli alieni rettiliani contro le misure di sicurezza relative al covid, ma non facendo un discorso per chiedere magari forme di prevenzione più collettive ed egualitarie di quelle che abbiamo visto finora, ma facendo invece il discorso che bisogna far ripartire l'economia. E c'era anche una significativa componente working class in queste manifestazioni di protesta sia sulle strade ma anche molto online, nel senso che molti lavoratori sono giustamente preoccupati del fatto che lockdown, quarantene lunghe, chiusure abbiano l'effetto principalmente di fargli perdere lavoro, rimanere a casa, perdere il reddito. E trovano quindi nella negazione della gravità della crisi sanitaria nonché di quella ambientale più in generale una sorta di risposta. Quindi insomma tipica questione in cui ci sono dei problemi reali, dei bisogni, in cui insomma poi la destra riesce a inserirsi e portarle in una direzione mistificata. Quindi a questo punto di vista la pandemia può essere letta come una manifestazione su scala globale del dilemma tra lavoro da un lato e salute e ambiente dall'altro, con il relativo ricatto occupazionale che ben conosciamo da situazioni come l'ilva di Taranto, per esempio, per citare il caso più noto al momento, ma come è stata per molti anni alcune produzioni di Porto Marghera. Nel senso che la scelta sembra essere quella tra lasciare che il virus si diffonda provocando la morte di milioni di persone vulnerabili, oppure bloccare il virus e morire di fame. Non è che ci sono facili vie di uscita da questo dilemma, ma è chiaro che chi vuole fare intervento nelle lotte di classe oggi deve porsi il problema di come scardinarlo perlomeno nel lungo periodo. Andando a vedere la cosa da un punto di vista un po' più teorico, anche dagli strumenti che ci dà il marxismo, noi sappiamo che nel capitalismo i lavoratori sono separati dai mezzi di produzione, ovvero non ne hanno collettivamente la proprietà, e di conseguenza dipendono dal lavoro subordinato, io parlo di lavoro subordinato più che semplicemente operaio di fabbrica o salariato, per vivere, per accedere al reddito necessario a comprare i mezzi di sussistenza. Essendo però i mezzi di produzione di proprietà di privati, questi investono soltanto con la prospettiva di guadagnare di più di quel che avevano prima, se no uno che ha un patrimonio e non pensa di guadagnare investendo, semplicemente se lo spende sotto forma di risparmi. Di conseguenza nel capitalismo la protezione e la creazione di posti di lavoro e quindi la nostra stessa sopravvivenza dipendono dalla crescita infinita del PIL, ovvero quella stessa logica di crescita infinita dei profitti che sta generando la sistematica devastazione ambientale di cui il Covid è una delle conseguenze. Quindi se i bisogni riproduttivi dei lavoratori sono la base materiale dell'ambientalismo working class, il nesso tra riproduzione dei lavoratori e lavoro capitalista è la base materiale del negazionismo working class e quindi un intervento politico deve andare ad accentuare e ampliare il primo polo d'azione della classe per evitare che invece la destra aumenti e incrementi il secondo. E per noi è la rivendicazione del reddito slegato dalla protezione lavorativa che può rompere questa dipendenza dei lavoratori dal lavoro capitalista e quindi dalla crescita infinita e quindi dalla devastazione ambientale con le sue conseguenze sanitarie. Però nei paesi ad alto reddito e ad alta tecnologia noi io credo non possiamo più pensare che questo reddito sia finanziato da un'ulteriore accelerazione dell'automazione capitalista a causa delle conseguenze ambientali della stessa è anche onde non prestare il fianco insomma a manovre di ristrutturazione. Possiamo pensare piuttosto di finanziarla tramite una decrescita giusta ovvero portata avanti tramite una radicale ridistribuzione della ricchezza e una riduzione del tempo di lavoro che è una lotta insomma storica del movimento operaio che oggi è più attuale che mai. Anche il contenuto e la produzione e le tecnologie stesse devono cambiare in modo più compatibile con la riproduzione della vita umana e non umana sul pianeta. Come diceva l'assemblea autonoma di Porto Marghera quindi un'altra esperienza che collegava le lotte ambientali sul territorio e quelle sul posto di lavoro bisogna costruire contropotere volta a cercare di andare a incidere su cosa quanto come cosa produrre. Quindi insomma il problema che abbiamo ancora oggi è quello di collegare le lotte per i diritti e la salute sul posto di lavoro con le lotte ambientaliste nei territori e quindi questo reddito sganciato dal lavoro inteso in senso ambientalista può essere uno strumento efficace. È chiaro che però che una piattaforma rivendicativa che assumano questo discorso non può essere semplicemente calata dall'alto, bisogna verificarla e capire come adattarla alla composizione di classe contemporanea. E quindi questo strumento dell'inchiesta operaia che è stato sviluppato sviluppato a partire da 60 anni fa proprio in Italia e in particolare anche nei nostri territori e che fu un carattere soprattutto all'epoca fondante e caratterizzante della tradizione politica ad cui noi veniamo, è ancora qualcosa che ci può aiutare. Noi comunque facciamo sempre inchiesta in modo implicito quando cerchiamo di capire le trasformazioni che succedono attorno a noi, quando cerchiamo di capire come intervenire. Però anche a livello esplicito è tornato in auge, anche fuori dall'Italia, in Francia, in Inghilterra, per cui anche l'intervento che viene dopo. Anche noi abbiamo messo su un piccolo gruppo di inchieste, che abbiamo chiamato gruppo nord-est di inchieste dal basso, in cui cercheremo di pubblicare alcune cose sul lavoro che viene già fatto da tanti anni qui nel territorio. Quindi per iniziare a capire come la crisi in questo momento stia trasformando, perché sicuramente la sta trasformando radicalmente la composizione di classe, abbiamo qui dei relatori che hanno già fatto inchiesta a vario titolo.